Salve a tutti, sono Francesco Fusillo per le guide di Sodilinux spiegherò questa nuova funzione Sodilinux per Windows e Mac abbiamo pensato di realizzare questa nuova versione per andare incontro a chi ha difficoltà a pensare di abbandonare il proprio sistema operativo e quindi non può sperimentare i software che abbiamo predisposto nella suite di Sodilinux software didattico per Linux in particolare i software per la disabilità, i software per l'inclusione i software per l'accessibilità della macchina alle persone con difficoltà motorie o psichiche e penso alla comunicazione aumentativa, alla modellabilità dell'interfaccia desktop le sintesi vocali, tutti quei software che fanno parte della suite di Sodilinux liberi, open source e multiplattaforma, cioè che funzionano su Windows e Mac che sono inclusi in Sodilinux per andare incontro a chi vuole tenere il proprio sistema operativo ma utilizzare Sodilinux abbiamo pensato a questa nuova versione quindi Sodilinux funzionerà a fine guida, vedrete, dentro il vostro Windows e per farlo lo farò insieme con voi con un Windows 8 come vedete, eccolo qua è bello come il sole, sembra in realtà un 7 perché l'ho configurato con il bottone d'avvio molto più semplice di 7 su Windows 8 ma in realtà è un Windows 8 che andremo ad allestire con Sodilinux e vedrete a fine lavoro che il nostro Sodilinux lavorerà dentro Windows in una cartella quando sarete stufi di vederlo o volete passare a un altro tipo di installazione non farete altro che o buttare la cartella dove c'è Sodilinux e sparisce Sodilinux, cioè la macchina virtuale oppure andrete a fare una installazione vera e propria in dual boot cioè scegliendo all'avvio se Windows o Linux oppure addirittura allestendo una macchina solo con Sodilinux perché vi sarete resi conto dell'usabilità, la compatibilità con gli altri sistemi e la protezione assolutamente importante dai virus Sodilinux non ha praticamente virus né possibilità di attacco dalla rete prima di cominciare i passaggi di installazione voglio però ricordare che questa guida è stata fatta per macchine recenti voglia dire macchine 64 bit che abbiano almeno un processore dual core con 4 giga di ram ecco, per questo perché e che abbiano il supporto alla virtualizzazione abilitato dal BIOS quasi tutte comunque ce l'hanno, non c'è da fare niente però l'abbiamo scritto e 30 giga di spazio nel disco fisso che la cartella di Sodilinux andrà a costruirsi ovviamente ad essere amministratore di sistema perché senza la password non si installa niente questo perché la macchina, il pc praticamente quando funzionerà Sodilinux avrà necessità di ram cioè di memoria, di lavoro e di processore performante in quanto Sodilinux catturerà una parte della memoria che la macchina ha a disposizione per se stessa e quindi la macchina resterà con circa la metà dei 4 giga di ram per Sodilinux 2 giga di ram sono più che sufficienti funziona come meraviglia per Windows non è proprio così e quindi è bene che la macchina abbia 4 giga di ram per poter avere un Sodilinux perfettamente performante e come questo programma Firefox non lo voglio vedere lo abbasso e uso Windows quindi poi dopo vedrete io posso usare un Sodilinux o Windows contemporaneamente e dentro e dentro come dicevo io e dentro Windows però per iniziare a questo how to abbiamo costruito questa guida questa guida che io adesso passo passo andrò a fare per prima cosa scaricherò la macchina virtuale cliccando qui virtualbox.org wiki download ok clicco e si aprirà la pagina di VirtualBox sceglierò il sistema operativo e la versione che ho quindi sceglierò per Windows eccola qui virtualbox 5.0.14 per Windows e cliccherò qui e andrò in download se avessi un Mac sceglierò virtualbox 5.0.14 per Mac non scelgo quella per Linux perché evidentemente sono su Windows 8 quindi clicco la versione per Windows e ecco che mi parte il download salva file e io me lo salvo nella macchina poi dopo torno sulla guida primo download è fatto secondo scarico il file OVA a questo link il file OVA non è altro che un Sode Linux completo con già 20.000 immagini per far funzionare la comunicazione aumentativa quindi non vi diamo un Sode Linux diciamo da allestire ma già completo già organizzato che voi potrete far funzionare immediatamente però è un file complesso completo di circa di 6,8 giga quindi cliccando qua partirà un link eccolo qua dirò salva Sode Linux CTS 2015 OVA e 6,8 giga dovrete avere la pazienza che il download sia completato altrimenti non funziona quindi se c'è una linea veloce è bene fare questa operazione o altrimenti farlo dove c'è una linea veloce perché ci vogliono ci vuole anche un'ora il bello è poi che potrò mettere su chiavetta questi file e spostarli su un altro computer se voglio farlo quindi faccio il download una volta quindi salvo ecco che è partito il secondo download e per finire devo scaricare anche l'extension pack l'extension pack altra volta clic vado ancora sul sito di VirtualBox eccolo qui l'extension pack 50.14 lo scarico ok salva ok bene l'extension pack non è altro che è un'estensione di VirtualBox che permette a VirtualBox di condividere le chiavette col sistema ospite vale a dire io posso usare la mia chiavetta che infilo dentro al computer sia con Windows che con Linux o con Mac e con Linux senza extension pack questa funzione dell'uso delle chiavette non c'è è assolutamente importante avere l'extension pack perché questo significherà poter usare su di Linux sopra Windows tanto come se fosse installato usando le vostre chiavette per salvare i dati e portarli dove vi pare piace anche semplicemente per passare i dati dal vostro su di Linux al Windows che lo sta ospitando però vi accorgerete è come avere un sistema operativo dentro un altro sistema operativo e risulterà una cosa veramente fantastica quindi a questo punto non faccio altro che passare alle installazioni prima della VirtualBox e una volta terminata lanciare i file scaricati al punto 1 appunto alla VirtualBox con doppio clic che permetterà di sfruttare al massimo le chiavette che è la extension pack quindi adesso io andrò a fare queste due cose poi si lancia la OVA ma state attenti che all'interno della Virtual Machine l'utente è so di Linux e la password preimpostata da noi è so di Linux quindi siccome potrete anche fare delle installazioni o delle modifiche so di Linux ricordate che voi siete so di Linux con password so di Linux quindi adesso andremo a fare le installazioni